Giorno e notte Come fa da sempre il giorno a seguire la notte e la notte a seguire il giorno con assoluta precisione? Commento Nella realtà non si muove né il giorno né la notte perché il loro alternarsi è congelato da sempre nell'eterno presente del cosmo a cui apparteniamo. Grazie